Oggi stango a leggere una frega di libri. Questo è un romanzo di Ignazio Silone, un mio libro. Vabbè, e comunque faccio dieci, quindici, venti minuti ogni libro, poi passo al prossimo. Certo che ho vede la dilisione, ma no, invece a leggere non mi stanco. Appena che cessi di piovere, torno al mio orto, con la scusa di andare all'orto, faccio una bella passeggiata con la bici. Anzi, esattamente oggi mi ero organizzato per andare alla chiesa di Cantaleggio, causa maltempo. Vabbè, i giorni non mancano. L'importante è essere impegnati. Domani dovrebbe essere l'ultimo, il 31 maggio. Prima di passato, il giorno febbra, marzo, aprile, maggio. Ecco, il 21 di giugno, finisce la primavera, ma ecco la primavera è già stata proprio. E se continua questo maltempo, no. E poi giugno, luglio, agosto, l'estate, che fa? Se passa il tempo a cucire, praticamente le stagioni non esistono più, sono classi nel 1955, ma è una cosa simile. Tu pensa, qua l'altitiano del cucino ancora non riescono a smontare la patana, qua alcuni eccezionalmente, ma parecchi sono pure praticati alla patana, sono problemi. Perché qua, all'area di Pucenzi, vivono esclusivamente l'agricoltura e se non fa l'agricoltura è un dramma per tutti. Grazie.